Ora il cerco d'Ottomunito 3500 Eccolo qui Come da retro della confezione il topino numero 3500 è un numero da collezione che presenta 20 pagine in più Inoltre per chi vuole e io vogli c'è lo zio paperone cercatore d'oro Il numero come mi ha ricordato il mio edicolante di fiducia è andato letteralmente a ruba ma per fortuna lui me lo ha messo da parte A questo punto procediamo all'apertura della confezione Direi che mi piace Copertina metallizzata con un numero natalizio quasi esclusivamente dedicato a celebrare il compleanno di zio paperone Che arriva ai 75 anni Mentre per la parte dedicata a Topolino 3500 C'è semplicemente un servizio redazionale di una ventina di pagine Di questo Topolino ho anche ordinato la versione variant in fumetteria Che ovviamente non avendo a disposizione non posso mostrarvi Arrivati a questo punto Saluti tutti Saluti tutti Grazie a tutti.